C'è una casa di merda di prima. C'è una casa di merda un po' più grande. No, ma gli hai lasciato un pompa sopra, Luca. No, io non sono salito. Eh, infatti, ma uno ti ha preso l'arma sopra, vuoi che... adesso ti ciulli. Non so che l'arma fosse. Ma anche qui c'è stato un set cinematografico. C'è qualcuno che saprà di me. Eh, l'ho visto, si è preso un'arma rete, non so che cos'era. Spero non la doppietta. Io ho una pistola, ti dico. Vai da Luca, vai da Luca. Dai al negozio. Dai, ho appena preso la doppietta adesso. Vengo, ce la faccio. Sì, sì, forse sì. L'ho lanciato one shot. Dov'è? Dov'è? Dimmi dov'è. No. Ma l'ho preso una volta. Perché l'ho preso una volta di assalto e mi ha shottato. Ma perché sopra io non ci sono salito proprio. Eh, ma hai sbagliato. Ho lasciato una doppietta, mi sa, lì sopra. Sì, la doppietta. Eh, non puoi lasciare il pompa sopra. No, ma perché non ci arrivavo nel petto e questo è il problema. C'è una casa? No, poi non c'è nessuno. Ho anche una forza. Guarda gli scudini e poi me la prendo. Se ci sono. Ah, se io mudo. Non ci sono. Ah, ok. Non mi piace questo. Ok, l'ho mutato. Per la cui controllo. Da dove giochi? PS4? Tanto ho IP games, quindi si può giocare anche in cross play. Sento, sono sopra di noi. Sono salito. Non ho il pompa io, eh. Ah, se me lo ricevi te lo lasciare. Vabbè dai, va. Ci vedo ciò che... Bello. Eh, ti vengono. Quando si compra la sergi, ma che fa? Una la deve scartare. Ah, infatti. Non può stare lì ogni partita a dire uno ne uso questo. Oh, ma qui c'è una casa nuova. Quella è strana. È a molte case. Un sacco di case gli hanno giunto. Alla stracantina. È troppo bello. Guarda, è quello dato. Ovvero, questa viene la casa. Ha buon secco la casa. Ma cosa hai, non so cosa est��ausp sociedad. Cosa stai fino a diccer카? Ci invece me lo ritirò. Ma te ne Cuba? o avvicinare il microfono adesso l'ho sentito però è un po' più alto ah vai aumenta aumenta metterlo al massimo in caso eccoli l'autente guardali che fanno i pavimenti e guardati che sono squad qua ah ma stanno pushando no ma quanto vita ho perso ho le bende se vuoi si si porto hanno affaitato BOOM BIT qua ha diseguita le bende ehi ti lasciate i capelli esce non ha vita non ha vita non ha vita mannaggia ah ormai se ormai se lo hiti non ha vita cacchio non ha vita quello non ha vita e continua a muoversi colui con l'amico sono tutti senza vita questi bellissimo sto aggiornamento sono due senza vita in sto posto come biondo è no è crashato il biondo nooo è fermo nella nel fg non ci credo cosa il nome dell'account cosa è è qual è 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 no un altro team di qua cazzo e va a fanculo mi sono fatto la lievita quando li avevo già distrutti ho sparito quel altro eh infatti se lo avessi scuola a questo punto senza che il biondo faccia neanche un momento mi pesa ecco la sobra un attimo eh non so quando ci vuole non so 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 si fightano con non so quanti sono non so mi fai vedi che sta rinimando benta eh si sali sopra sali sopra sali sopra le granate ti conviene salire con si volano non so non so così non so non so non so non so non so Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.